Giovedì 1 giugno 2017. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino Martire. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Giustino, Lia e Graziano. Accadde oggi. Il 1 giugno del 1980 inizia le trasmissioni la Cable News Network, la prima emittente televisiva All News, fondata da Ted Turner, meglio conosciuta col suo acronimo CNN. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo Marilyn Monroe, nata a Los Angeles il 1 giugno 1926. Primo vero sex symbol della storia e icona della cultura pop, Marilyn Monroe, oltre 50 anni dalla sua morte, rimane una delle stelle insuperabili di Hollywood. La citazione del giorno. Nessuno è di fronte alle donne più arroganti, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità, Simone de Beauvoir. Dice il saggio. Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Proverbio arabo. La parola preziosa. Avete presente quelle persone sempre pronte a criticare in modo severo e anche ingiusto? Se ne trovano sempre più spesso, soprattutto sui social network. Per questo tipo di persone esiste un termine preciso. Zoilo. Storicamente Zoilo era un grammatico greco famoso per aver scritto un'opera andata perduta in cui criticava aspramente Omero e i suoi poemi. Da allora Zoilo viene utilizzato per indicare un critico pedante, astioso e ingiusto.